Dopo una rissa scoppiata in discoteca, alla guida di una macchina investe alcune persone, ferme nei pressi del locale. Il bilancio è di sette feriti. Il fatto è accaduto la notte scorsa tra le 3.30 e le 5.30 a Cava dei Tirreni. Un diciottenne originario di Pagani è stato individuato e arrestato dai poliziotti del commissariato cavese. Il diciottenne è ritenuto responsabile di tentato o micidio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo dopo il litigio sembrava essere andato via. Invece sarebbe tornato alla guida di una vettura ed è investito i giovani all'uscita della discoteca. I giovani feriti, di cui solo uno, di Angri e tutti gli altri metelliani, 6 hanno riportato lesioni guaribili da 5-8 giorni. Un diciannovenne di Cava dei Tirreni invece è stato ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Santa Maria dell'Olmo per gravi fratture al bacino. Anche il padre dell'arrestato è rimasto contuso con 5 giorni di prognosi. Sul posto anche gli agenti della questura di Salerno, che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e hanno avviato le indagini del caso.